A Parigi la delegazione romana capeggiata dal sindaco Rebecchini si accinge a raggiungere il municipio della capitale francese per la cerimonia del jumelage, cioè come diremmo in buon italiano dell'affratellamento di Roma e Parigi. Un simbolico abbraccio tra le due maggiori città della latinità. La delegazione capitolina raggiunge l'hotel de ville e preceduta dai valletti in costume perviene alla sala delle feste. Qui il presidente del consiglio municipale Jacques Ferrand insegnisce il primo cittadino di Roma della commenda della legion d'onore. A sua volta Rebecchini porge una copia della mitica lupa, riprodotta al naturale e posante su un piedestallo di travertino romano, con la scritta Roma Lutezie, il nome latino di Parigi.